Ragazzi questo è un problema abbiamo trovato questa casa assurda Ryder che cacchio è? Ma non lo so ma che cosa può essere questa? Cioè guarda qui È assurda aspetta allora io se vedi qua nell'inventario ho una fotocamera e dobbiamo documentare tutte le cose strane che succedono Dobbiamo fare le foto perché ci devono essere le prove Dobbiamo documentare tutte le cose stiamo facendo le foto per tutte le prove Ryder Allora qui c'è tipo un maiale ma poi cos'è sta roba? Ma tu risenti questi urli che provengono da non si sa dove? A volte ci sono degli urli sì questo mondo è completamente strano Ah poi peraltro facciamo una foto vicina qui a questo occhio Ma come caspita è possibile? Ma che casa è questa? Cerchiamo di entrarci dentro però Non possiamo allora c'è scritto che bisogna trovare la chiave e quindi praticamente vabbè ho capito quindi non è qua non si può entrare allora Tu non hai una chiave quindi non possiamo entrare la dobbiamo trovare Allora dobbiamo trovarla qui oddio Ryder Oh Ma chi è che ti ucciderò Herobrine firmato blind man Ma chi è blind man? L'uomo senza occhi sarebbe L'uomo praticamente cieco dimmi Io ho un piccone però lo spacchiamo? Va bene spacchiamolo Ah hai trovato password protected chest quindi praticamente questa è una cassa con una password che bisogna inserire per prendere Perfetto allora bisogna trovare una password qui nei dintorni sarà per forza perché dove vuoi che sia se no Io farei anche presto perché non mi piace molto questo posto Anche perché poi quella casa non promette nulla di buono Allora qui c'è una casa ed è vabbè abbastanza normale mi sembra quindi non c'è niente Ecco il letto direi di prenderlo E dici ma secondo me potrebbe essere utile Che bella questa casa comunque Bellissima ma ci vivrei sicuramente no proprio Un becilletto Allora bisogna togliere tutte queste foto Oh 1500 Aspetta un attimo questa è una carta C'è scritto 1500 Che cosa c'è forse? Cosa? E' il codice forse della cesta che abbiamo trovato prima Ma sei un genio cacchio hai ragione Aspetta un attimo questo è un lucky block Cioè praticamente questo è un blocco che se tu lo spacchi Ti dà qualcosa di o di fortunato o di sfortunato In questo caso era molto fortunato Abbiamo avuto un sacco di fortuna 13 diamanti Perfetto tu quanti ne hai? 3 diamanti, 12 smaraldi e 12 di oro Perfetto siamo a posto Inizia a prendere un po' di legno magari ci serve a qualcosa Allora secondo me però questo 1500 come hai detto tu In effetti potrebbe essere il codice Andiamo a vedere Non ci stavo pensando sai Aspetta 1500 ok E in effetti c'è un libro Oddio aspetta L'angolo più buio dietro di te Dietro di me Qui Dove c'ero Brian No più buio Forse lì o lì Oddio guarda lì In effetti guarda lì come è buio È vero Vieni con me Andiamo a vedere dove caspita si trova È vero ma c'hai ragione Ma tu oggi sei proprio un indovino Allora vediamo un attimo Ho visto? Ho visto Red key questa è la chiave rossa Esatto ed è perfetta per la porta È la chiave della casa Era rossa l'altra chiave esatto Cioè l'altra porta scusa Vabbè andiamo È qua vicino Ok perfetto Allora Rider A parte che lagga in questa Rider Fermo No No Rider Io tornarei indietro Ho fatto la foto Ho fatto la foto Quello è Ero Brian Ma Ma chi è Ero Brian è lui? Sì così i nostri amici Smetteranno di non credere alle nostre parole Quando gli diciamo che stiamo giocando in un mondo Completamente maledetto Zoom a sopra Zoom a sopra Eh ma si è zoomato un sacco Si è visto benissimo Ero Brian proprio Guarda lì Che cacchio sta facendo? Assurdo Sta guardando la casa Di 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 quest'altra cosa Che praticamente Poi scusami c'era scritto Ace man da qualche parte Dove che c'era scritto? Eh Lì No Eh lì vicino al suo altare Esatto Ace man praticamente sarebbe L'occhio Oppure blind man scusami Non era blind man Scherzata Vabbè Praticamente questo blind man È l'uomo cieco Comunque ignoriamo Ero Brian Sembra che non ci stia proprio Guardando Sta guardando La casa Vabbè Non è che c'è qualcosa di Importante nella casa Che magari lui vuole? Allora Potrebbe esserci in effetti Infatti Entriamo prima noi Così almeno Allora Oddio Allora stai attento Che cacchio ci sta facendo Questo qua qui Aiuto Aiuto Fermo Aspetta Aspetta Vedi non ci sta vedendo Allora blind in inglese ragazzi Significa cieco Ecco Questo è quel che posso darti Allora qui Vuol dire Vuol dire uomo cieco Non ti può vedere Questo blind man ragazzi Questo uomo senza occhi E vedete che sta in una casa Peraltro piena di occhi Perché Lui vede Con la sua casa In effetti non sto capendo Allora perché nella sua casa Non riesce a vederci Questa è una cosa C'è anche Aerobrani Che sta guardando questa casa Non dobbiamo dimenticarci Che c'è anche lui Fuori Fuori qui Aia Mi sa che ci ha trovati Mi sa che ci ha trovati No 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 Scappa 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 No no rider Scappa Sei scappato Sì ci sta rincorrendo Mi sa che ci sta sentendo correre No no scappa Volete 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 No 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 Fermo Sneaky 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 Ok nascondiamoci Nascondiamoci Non ti preoccupare Oddio sta laggando tutto Mio dio Perché sta caricando proprio l'entità Quindi questa entità Fa laggare tutto il gioco Cioè fa scattare il gioco È molto pesante È troppo potente l'entità Eh sì mi sa di sì Dove sei finito scusami Sono dietro di te sono Ottimo bravo Allora andiamo pian piano Non facciamoci Vedi lui non ci vede Lui fuori dalla sua casa Quando sei in distanti Non ci può vedere Attenzione perché a volte Gli alberi fanno delle facce Non vorrei che Vicino a degli alberi Lui riesca a vedere Sarebbe inquietante Non spero di no Oh attento 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 E qui E qui Aiuto Che cosa vuole fare Cosa sta facendo Ma sta spammando Tipo sta lanciando Degli occhi Ma perché sta facendo Questa cosa Oh Mi si è bloccato Mi si era bloccato Oh Oh aiuto Ho ricevuto Oddio oddio Che cos'era quella roba Rider Allora Rider Allontaniamoci Allora noi dobbiamo trovare Altre cose E dobbiamo essere Dobbiamo allontanarci Il più possibile da lui Mi sa che quando abbiamo sbloccato Quella sua casa Mi sa che l'abbiamo L'abbiamo tipo liberato No L'unica cosa che non dovevamo fare Praticamente Appunto Senti Andiamocene via Veloce Prima che Vai 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 ti seguo Lui arrivi qua Anche perché non è che possiamo Andare sempre in shift Se no non ci muoviamo Praticamente nel mondo Dobbiamo prendere E lui si avvicina sempre di più a noi Dobbiamo prendere delle cose utili Magari Per poterlo sconfiggere Allora abbiamo per fortuna Del ferro Abbiamo dei diamanti però Aspetta Abbiamo trovato dei diamanti Sì infatti Quindi possiamo farci un po' di cose Però Tu hai Delle Non so Del legno Sì ce l'ho Ce l'ho Eccolo Ottimo Dammelo così Grazie mille Allora praticamente Adesso ci facciamo una crafting table E ci facciamo tutte le cose Però stiamo attenti Perché lui quando piazziamo i blocchi Magari ci sente O Se da queste parti Oddio E mi sa che ci sta spiando dal buio Da qualche parte Quindi allora Mettiamoci qua Perfetto Allora Tra l'altro anche notte Questa cosa non aiuta per nulla No Infatti se vedi tutto il mondo Tutte le entità del mondo Sono molto più attive In questo momento Comunque adesso io ci ti faccio Magari una spada in diamante Così almeno E anche a me Così almeno abbiamo Sicuramente due spada in diamante Così possiamo contraattaccare Oh è qua È qua Attenzione Allora E non so come dartelo Perché ho paura che se Lo lancio Lui ci senta Oh tieni Prendi per me Oh c'ho sentito Non dovevo Non dovevo Non dovevo Attenzione Non Per favore Per favore Per favore Non possiamo Rider Non possiamo fare niente Ma com'è possibile Ma come No Oddio sta piecando Sta fatto fuoco a tutto Questo è fuori No 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 Ma non possiamo lasciarlo Brucia la foresta così Cerca di spegnere Senza magari farti E lo sto facendo È possibile È possibile È possibile È possibile È possibile È possibile Ha preso fuoco tutto Il processo di combustione Aiuto No 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 Eh cacchio 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 Aiaia Aiaia No 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 Che facciamo rider Per fortuna il fuoco Siamo riusciti a spegnerlo rider Mamma mia Allora Che si fa adesso Facciamoci delle armature Però stavolta non possiamo Non possiamo farci sentire da lui Io mi faccio una chest plate così E te la do anche a te Ovviamente il ferro perché non ce l'abbiamo in altre cose Quindi così Lui sta cercando di attirare la nostra attenzione Per farci fare rumore Volevo farci cadere nella sua trappola Continuiamo a shiftare Andare qua indietro Vedi lui non ci sta vedendo È veramente una benedizione il fatto che non ci senta Ma lui comunque riuscirà a venire da noi Prima poi ne sono sicuro Perfetto non è che ci ha sentito Ma Dio mio cos'è sto rumore E poi io c'ho pure mai Attento 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 Ma cosa hai fatto ma continua a fare rumore Ma non ho fatto nulla Forse perché ci aveva sentito Quando ho droppato la cosa Capiamo Allora Domanda questa staffa Che cacchio ti fa Scusa perdonami Non mi fa male Attento attento Oh mio dio Ryder continua a shiftare lui è qui ma guardati in alto Ma Come caspita è possibile Ma cosa sta prendendo fuoco di lui Ma poi ma la smette di accendere la foresta Aiuto Ma è impazzito È impazzito Ai 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 mi ha dato fuoco Ai 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 E certo lo fa apposta per farti per capire dove sei Mi sa che sto Eccolo ti ha trovato Senti Andiamocene via dalla foresta prima che sia troppo tardi Vai 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 Cosa caspita ci fanno due lune in cielo Scusami eh Ma no no Ma Oh Oh che Che Oh 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 Che è assurdo Ma che Che sta succedendo qua Allora andiamo qua Perché qua Potrebbe esserci un high ground migliore Aspetta lui continua a picchiare Forse ha trovato la pecora Mi sa perché Continua a fare bebe Sta sentendo i suoi passi anche È stupida Ma che stupida quella pecora Sì ma ha fatto pure bebe Cioè Come fai Cioè non sai che Ovviamente non lo sa una pecora giustamente Oddio che spavento di nuovo le due lune Madonna mia Questa cosa è veramente senza senso Andiamocene sopra Aia Ma attenzione Quando ci facciamo anche i danni Perché lui ci può sentire Quando facciamo i danni Facciamo così Saltiamo in acqua Ma ho sentito che sta lanciando qualcosa Aiuto Si è lanciato con noi Si è lanciato con noi Sotto 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 Porco maiale Ma perché continua a seguirci questo qua Non riusciamo a liberarcene i rider Ma perché mi sa che l'abbiamo liberato Una volta che siamo stati in quella dannata casa Abbiamo aperto quella casa E per forza così Perché quella era casa sua Era bloccata Forse era un sigillo magico Tu sai cosa sono i sigilli magici No Sono praticamente delle Come posso spiegarlo Sono tipo Hai presente un lucchetto Si Ecco però un lucchetto magico Con le energie magiche praticamente E quindi questi sigilli magici Possono bloccare le entità Forti e malevole Come questo coso E noi abbiamo fatto esattamente La cosa contraria Che non dovevamo fare Perché siamo Ma che Questa è una mina Ma ci siamo passati un secondo fa What the f Aspetta ma Lì c'è Rider Fermo 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 Lì c'è qualcuno di invisibile Guarda Guarda lì No Si No Si Oh mio dio Hai spaccato tu la mia Via 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 Non solo Ho attaccato No no Scappa 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 Allora vieni con me Saliamo qua sopra Allora io l'ho attaccato Con la sua Staffa Saliamo 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 Vai 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 corri 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 Oh stiamo attenti mannaggia Perché qua è tutto quanto rotto questa scala Ok bisogna fare un po' di parkour Cos'è Rider che cacchio è Non lo so aiuto C'è stato un rumore No non ho sentito Cos'era C'è stato uno che urlava tipo Non ho capito cos'era Ma era tipo un qualcuno che urlava No l'ho sentito anch'io prima L'ho sentito Eh tipo Una roba del genere Ma come caspita è possibile Poi scusa un attimo Io questa cosa te la volevo chiedere da mezz'ora Ma allora però questa cosa Non riesco a salire Volevo chiedertela da mezz'ora La staffa della cecità Tu Quando ti avevo fatto l'incantesimo Che cosa ti aveva dato Cecità E mi avevi fatto un metà cuore Un cuore di danno Ok quindi Fa un po' di danno Oh Sono caduto C'è rotto la scala Non possiamo più salire Rider Il minecraft mi sta dando Se misteri Mi sta dicendo 3 2 1 Io vedo tutto buio Rider Tutto buio Aiuto C'è lui Che cos'è C'è lui Oh mio Dio No 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 Non posso correre Aiuto Non posso correre Andiamocene via Andiamocene via No 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 Rider 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 Non vedo nulla Aiuto Non vedo nulla Cosa C'è urlanto C'è qualcuno che urla C'è un qualcuno che urla No 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 Via via Mettiamoci da qualche parte Fa presto Rider Rider ci stanno attaccando Dammi le torce Dammi le torce Dammi le torce Aiuto No sta andiamo Passando tutto No 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 Rider Rider Che facciamo Non lo so Rider ma che cosa sta succedendo Inventati qualcosa Fa presto Io sono solo un povero essere umano Che cosa posso farci con queste cose Che ci stanno uccidendo Mi è comparso Mi è comparso la scritta Mi ha trovato Mi ha trovato Oh la sua staffa Magari gli fa qualcosa Via Aiuto Rider Che facciamo Ti sono andato in panico Aiuto Oh ma si è allontanato Con la sua staffa Vedi si è allontanato E è andato dietro Oh mio dio Però la foresta brucia Senti abbiamo qualcosa Contro di lui La sua staffa Per un qualche motivo Gli fa paura Forse lo acceca di più Non ho capito Magari lo fa diventare sordo Non lo so Però gli fa qualcosa Si chiama Staffa della cecità Qualcosa gli farà anche a lui Probabilmente Allora gli farà del danno A lui no Magari del danno Qualcosa del genere Sicuramente Perché lui è già cieco Ne sono sicuro Si chiama pure uomo cieco Cosa vuoi che sia Però scusami Io vedo minecraft Che è completamente maledetto Io non vedo Si giuro Mi è comparso una scritta Five Six Seven Eight Ma perché Vedi Qua c'è un cervello Indica sotto In basso a sinistra Vicino alle torce Ah la sanità mentale La sanità mentale E Come Come si fa A ripristinare la sanità mentale Rider sono morto Assurdo Sono morto E sono rinato Peraltro sul posto Forse perché Quando raggiungi lo zero Praticamente Di questo cervello qua Praticamente Mi sa che è finita Cioè muori Quindi non bisogna mai Raggiungere lo zero Ma come si fa in sto mondo Lui non c'è più adesso Vero? Eh come no Cioè dietro di te Non so Ah no non è vero Sei tu questo Sì Perché pensavo Che ci fosse di nuovo La pozione dell'invisibilità Guarda qua c'è un tizio morto Ovviamente Oddio che brutto Io ti voglio però Molto forte qui Perché siamo in un'avventura Veramente pazzesca Rider Sì sì Sono ancora un po' scioccato È scioccato Proprio per questo Devi essere super prospero Oh Oh Eh no Allora c'è È qui Rider È qui Dici che è qui? Eh ma tu che dici Non so Mi sta facendo in dinanzia Eh ma chi è che sta mettendo Oh Dio Io me ne andrei Io me ne andrei Io me ne andrei Fossi No no fermo Dove sei finito Devi stare Sono qui Sono fatti con te Che spavento Perché ho pensato Te ne riandate Invece sei qua Maia Maia No dietro Non è vero Aspetta Mannaggia Mannaggia Oh se ne sta scappando Però vedi Non è vero È perché non ci ha visto ancora Forse lui scappa solamente Quando riceve il colpo Da me con l'ascia Cioè no vabbè Con la staffa Quindi Solo in quel caso In altri casi non ci vede Soprattutto se non Tarco 2 Oh Ho preso un jumps Che era assurdo Mio Dio Oddio mi hai fatto spaventare Che cosa è che è successo Non lo so Qua abbiamo trovato un altro Di questi lucky block Magari siamo fortunati E hero villager Un villager Beh Cacchio Questa sarebbe utile Però come cacchio Facciamo a trovare Tutti sti Gli abbiamo sprecati Per farci praticamente Le spade Che poi Non ci sono servite nulla Aia Oh calma Calma Oh Via 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 Andiamo Vedi la Forse di sopra Non riesce a seguirci Raider Non sei così sicuro Se si teletrasporta Probabilmente Allora Riesce a seguirci Ma cosa sta facendo Oh Quello è solar Raider No Quello è solar Tu non lo conosci No Che cos'è Ma mi sto spaventando Che cos'è Allora è un sole sorridente E praticamente C'è un ghigno malefico Quando lui si presenta Ma anche nella vita reale Questo Purtroppo Ti fa diventare Tutto quanto ghiacciato Tutto quanto freddo E alcuni nei commenti Avevano ipotizzato Che si trattava Cioè Che le persone Che lo vedevano Lo vedevano Per freddo Proprio perché Era Si spaventavano Spaventavano tantissimo Quindi magari Vanno detto Magari per questo Diventa freddo Potrebbe essere Comunque Andiamocene Sopra Quindi questo mondo Sta andando di bene in meglio Giusto mi sembra di capire Ma si ma c'è tutto Probabilmente non so Sarà maledetto da solar Io non ho capito da che cosa è maledetto Ma è sicuramente maledetto Quello che è sicuro È che è maledetto Raider ma avevamo fatto la foto di lui Si si Tu le avevi fatte le foto sue Eh Di lui non ne sono proprio così sicuro Aspetta un attimo Questo è Aerobrine Aspetta dobbiamo fotografarlo Perché dobbiamo fare la prova Praticamente Quindi Tu Che hai qua Perché hai da un'altra C'è qualcuno che urla Si C'è qualcuno che urla Aiuto Mi sto spaventando tantissimo Eh lo so Lo so Raider tranquillo Non so cosa dirti Veramente Spacchiamo sta porta Va Ok Qui potremmo stare abbastanza al sicuro Magari Se c'è qualcosa Anche di utile Speriamo Non c'è niente Tu avevi un letto giusto? Allora un letto Si ma non ci serve a niente il letto Perché dovrebbe Oh che Ma cosa sta facendo Ah sta cercando di attirarci forse Ma hai qualcosa per chiudere la porta almeno Guarda qua c'è Aspetta un attimo C'è un cartello Slimmy 2022-2023 Oddio L'ho fotografato Ok perfetto Allora attenzione Ok faccio così Mi sa che sente il rumore della macchina fotografica Che stupido Aiuto aiuto Da me Via Ok perfetto Ok perfetto Allora tu Mannaggia ti spadello in testa Devi stare concentrato Perché qui sta per morire Ci sono pure gli scherzi che ci sparano Vai 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 Accidenti Accidenti Ok perfetto Siamo qui dentro Così almeno non ci succede niente Aiuto Hai qualcosa per chiudere la porta Almeno che non possa entrare Anche se dubito che lo fermerà qualcosa No così ma No ci ha messo la Ma brutto No la bomba La bomba Perché mi consiglio questa cosa Adesso eccoci Usciamo prima che sia troppo tardi vai Mi sa che Questo qua è completamente impazzito Non possiamo Come si fa a stanzia Oh raga ma come si fa a mandare via Non so come si fa Perché ci sarà un modo per farlo andare via Comunque ci sta seguendo da un botto Cioè non ci stacco un attimo Appunto Cioè C'è un rituale Qualcosa che tipo Lo mantiene almeno per un po' distante Perché Se no non ha senso Cioè Probabilmente c'è qualcosa che Magari lo Lo fa spaventa Dici Sì può essere Cos'è di nuovo qualcuno che urla Basta Questo mondo mi ha stufato ragazzi Ora sono veramente stufo E ho spaventato pure Quindi Se volete che facciamo altri video su questo mondo Scrivetecelo nei commenti E lasciate un sacco di like Ovviamente così Continuiamo E iscrivetevi al canale Per sapere quando usciranno altri video di questo tipo E rider Io direi che mondo più maledetto di questo Io ad ogni video lo ripeto Ma davvero Questo è ancora più maledetto degli altri Assurdo Questo qui è una cosa incredibile comunque E questo uomo senza occhi Terribile